Ciao a tutti, Dreamlike Moon, vi da il benvenuto a un nuovo video di unboxing, quindi TamaMail, è arrivato stamattina e non vedo l'ora di aprirlo, perché qua dentro, e io intanto comincio ad aprire, c'è qualcosa che stiamo aspettando in tanti da un po'. E vabbè, non serve fare chissà quale mistero, giustamente, perché dal titolo del video è più che sufficiente capire, insomma, che cos'è. Quindi apriamo, però anche in questo pacco, come in più di un pacco che ho ricevuto, ci saranno due cose, vabbè, anche qua nessun mistero, voi direte, per cui apriamo e controlliamo tutto quanto. eccoci qua, oh, e uno, e due, e questo sinceramente l'ho preso in un momento così, di ma chissà se ce l'hanno, ce l'avevano e... diciamo che era un programma, ma non adesso. E... oh, ci sono anche delle sorpresine. A parte la fattura, questo... è tipo un sacchetto, una busta, qualcosa di questo tipo. Sì, è una busta di plastica. Sì, sarebbe carina da appendere in camera, se la mia camera fosse quella di una dodicenne, ma non è così. Carino, però. Andiamo ad aprire le cose che ci interessano, per cui abbiamo qua il Tamagotchi Meats, versione pastel, per cui la versione di primavera, nonché di Pasqua, e un Tamagotchi Suku School, praticamente. Partiamo da questo, perché no? che è un oggetto davvero interessante. Non so quanti lo conoscano, a dire il vero, perché in effetti è uno dei... spin-off, non so se chiamarlo spin-off o cosa, più particolari in assoluto. Sapete, no? Come esistono i contapassi, o cose di questo tipo. Vabbè, questo non è un contapassi, ma di certo non si tratta di allevare dei Tamagotchi. Bensì, questa volta, anziché nei panni di un allevatore, ci troviamo nei panni di un preside, penso... Sì, penso di un preside più che di un professore. Di una scuola, anche deve occuparsi della sua scuola, di farla crescere e anche dei suoi studenti, diciamo. Qui abbiamo il tasto A, si è trasformato in queste frecce direzionali, poi il tasto B e il tasto C. È grandino, però si tiene in mano comodamente. Qua, questo charm che ricorda appunto quelli che si usano, no, a scuola. Cioè, da mettere sulle chiavi delle aule, almeno a me ricorda quello. E penso che utilizzi sempre la classica batteria dei Connection, perché anche questo fa parte dei Connection. Non so con cosa si può connettere, però. Non mi sono informata. Tra parentesi è del... Qua c'è scritto 2006, ma 2006 potrebbe essere appunto come era dei Connection in generale. Oppure potrebbe essere del 2006 e basta, perché no? Non so, non... Non mi sono informata moltissimo. Ora, non lo avvierò del tutto, voglio solo vedere se funziona. Di solito funziona, no? Japan Wanted, a cui ho acquistato anche questa volta, non manda mai nulla che non funzioni. Almeno non dalla mia esperienza. Sì, direi che funziona. La luce non è ottimale. Purtroppo, in casa mia, in questi Tama, non si possono utilizzare se non si è in un periodo compreso tra maggio e luglio, tipo, perché la luce è veramente scarsa, quella che entra. Per cui tolgo semplicemente la batteria e me ne occuperò più avanti. Ci sarà anche un... Ups. Un video guida, diciamo, per questo Tamagotchi, così come dei Tamagotchi che ho tralasciato finora, soprattutto quelli in bianco e nero o bianco-rosso e bianco-blu, come l'Uratama e il Kei Tai Akai. Però ho anche dei vecchi Tamagotchi che ho tralasciato finora. Ho anche virtual pet, tipo il Femilici, il Dinky Dino, per cui roba vecchia e vecchia. E penso che, vabbè, quest'anno farò video anche su di loro, perché non voglio rimandare oltre. Comunque, mettiamo un attimo questo da parte. Bello, mi piace, è un po' grande, però mi piace. Tra l'altro... non ha nemmeno il schermo troppo graffiato. Ottimo. Cioè, qualche graffiettino, ma quello del normale utilizzo. Nulla che possa compromettere il gioco. E ora passiamo al pezzo forte di questo unboxing. Per cui, il Tamagotchi Mixed Pastel. Ah, tra parentesi, sul Tamagotchi School. Se lo trovate, di solito costano pochissimo. Per cui, se vi piace come tipo di gioco, tranquilli che non costa moltissimo. Per cui, io sì, l'ho preso bianco. Che di solito non è il mio colore preferito. Però, avevo preso il Tamagotchi Mixed Anniversary Gift, di cui invece ho molto apprezzato la shell bianca con il faceplate colorato. e ho voluto fare una specie di combo. Cioè, il mix di Natale e il mix di Pasqua, entrambi bianchi. Così. È un colore che raramente fanno, come shell. Solo nelle versioni speciali, diciamo, come questa. Eccolo. Allora, non è più molto luminoso in questa stanza, però devo dire che il faceplate sembra essere bello brillante come le versioni Fairy e Magical. Però, al momento non posso non posso assolutamente dire nulla perché non si vede molto. Devo mettermi proprio al sole, di cui c'è l'ultimo bagliore alla finestra, dietro di me. Cioè, dietro, davanti a me. Cosa sto dicendo? E no, non è perlato. Mi spiace un po' che abbiano, non abbiano più le shell perlate, sinceramente. Però, diciamo che la brillantezza del faceplate va a compensare bene questa mancanza, diciamo. E non vedo l'ora di fare delle guide. Soprattutto non vedo l'ora di sbloccare le destinazioni nuove. Oggi è il... non so nemmeno che giorno è oggi. A parte che questo è il mese. Oggi è l'otto. Sono più o meno le cinque e qualcosa. Però io metterò le quattro e qualcosa. Tengo sempre l'orario un'ora indietro. Quattro e quindici. Ma sì, dai, più o meno. Il mio compleanno. Ecco qua il mio nome utente e siamo pronti per vedere l'uovo che si schiude. Almeno. Io sono prontissima, non vedo l'ora, anche perché ho visto che ci sono dei bebè e dei bambini davvero carini. Anche di più, secondo me, rispetto a quelli che ci sono nelle due versioni base, per cui il Magical e il Fairy. Ecco. Uh, l'uovo è cambiato, mi pare, ma lo sfondo è delizioso. Cioè, lo adoro. Poi, io adoro la Pasqua. So che suonerà come una bestemmia, me ne scuso. Adoro la Pasqua quasi più del Natale. Per cui... mi piace proprio. Sarà un maschio o una femmina? Se accettano le scommesse a questo punto, scrivetemelo adesso nei commenti. I suoni sono un filo diversi. Per cui forse hanno sistemato i suoni molto acuti che c'erano nelle versioni precedenti. Speriamo che abbiano sistemato anche dei bug. Purtroppo ne ho visto uno davvero molto brutto. Dove praticamente si congele bisogna resettare tutto. Ah, è una femmina! Ma che carina! Forma di uovo di Pasqua! No, ma è troppo bella. È adorabile. Vabbè, i cibi sempre gli stessi. Penso che sia tutto uguale. Tranne appunto che per due destinazioni per le quali appunto farò dei video insieme a voi. Le sbloccheremo insieme come sempre. Quindi direi che per ora è tutto. e ci vediamo più avanti molto presto spero con appunto questi video guida. Io intanto vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video. Se avete domande fatemele. Sono sempre felice di poter rispondere. E per qualsiasi cosa contattatemi, iscrivetemi. Per cui grazie di nuovo a tutti. Ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!